Italiano bello. Storie e letture in italiano. Avventura in montagna. Dieci. I pirati del fiume. E lei chi è? Chiedo meravigliata. Sono Capitan Castoro, il pirata del fiume. Sì, risponde lui orgoglioso. Quindi, avete bisogno di una barca, sì o no? Sì, rispondiamo io e Cody all'unisono. Io e la mia nave vi portiamo dove volete. La mia nave è la migliore del fiume, la più grande, la più veloce, la più bella. E ci può portare anche in un posto dove c'è un ospedale, vero? Chiede Cody. La mia nave vi può portare ovunque. Dipende da quanto pagate. Ma noi non abbiamo niente, non possiamo pagare. Non può fare un'eccezione? Guardi, la nostra padroncina è ferita. Lui la guarda un attimo. E va bene, questa è chiaramente un'emergenza. Non si può dire che noi pirati non siamo generosi. Aspettatemi qui. E poi se ne va. Ma gli animali selvatici sono sempre così bizzarri? Dopo alcuni minuti appare una sagoma sul fiume. La nave pirata. Beh, almeno ha la bandiera nera con il teschio bianco. Però non è una vera e propria nave. Di certo non è grande come una nave da crociera, né come un veliero. Non è nemmeno grande come un traghetto, né come una barca a vela. E nemmeno come un motoscafo. È grande più o meno come un gommone. È una zattera pirata. Ma non ci lamentiamo. Meglio di niente. Forza, salite a bordo! Dice Capitan Castoro. La zattera si ferma e alcuni castori scendono e ci aiutano a caricare padroncina a bordo. Si parte! E così salpiamo.